E' stata approvata all'unanimità nell'ultimo consiglio metropolitano la mozione che supporta la richiesta di un ampio gruppo di sindaci di integrare nel nodo ferroviario e stradale di Chivasso una stazione di interscambio con la linea alta velocità Torino-Milano, che offrirebbe l'accesso alla rete nazionale tramite il nodo di Chivasso alla Valle d'Aosta, al Canavese, al Chivasese, al Monferrato e all'Ovest Vercellese, permettendo agli abitanti di questi territori di beneficiare effettivamente dell'alta velocità. La richiesta dei sindaci si basa sull'intuizione di Carlo Fontana, presidente dell'Associazione Identità Comune, che per primo ha avuto l'idea della stazione di interscambio di Chivasso. La stazione di interscambio Porta Canavese-Monferrato e anche Valle d'Aosta non rappresenta solo una stazione, ma una vera e propria porta per far entrare sviluppo occupazionale, produttivo e turistico in questi territori. Inoltre offre a mezzo milione di residenti una mobilità più efficace per raggiungere Milano ed il resto dell'Italia. Infine, integrando la rete dell'alta velocità con le ferrovie regionali, contribuisce a creare un sistema ferroviario più efficiente e più adatto alle esigenze dei cittadini. Nel presentare la mozione in consiglio, il vice sindaco metropolitano Marco Marocco ha ricordato che è compito delle istituzioni dare supporto alle richieste del territorio, spingendo il governo a prendere in considerazione tale richieste. Città metropolitana ha raccolto la sfida dei territori, che in questi anni hanno portato nei loro consigli comunali una mozione, un ordine del giorno, una delibera, proprio per dare forza a quello che è un'idea progettuale, un'idea importante, quella di utilizzare le infrastrutture che in questi anni sono state realizzate, infrastrutture importanti, stiamo parlando dell'alta velocità, una nuova fermata all'interno del territorio, questo per dare voce, dare forza all'economia locale e diversificare quelle che sono le sfide di oggi in un territorio che ha resistito, come il tessuto industriale ha resistito, ma deve essere alimentato. La delibera è stata approvata unitamente a un emendamento del gruppo di città di città, centrosinistra, presentato dal consigliere Alberto Avetta, che sottolinea l'attenzione della regione Piemonte, la quale ha commissionato uno studio sullo sviluppo di nuove stazioni intermedie sulla linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Milano.